Benvenuti in fiera nel nostro stand di Fanuc Italia dove fisicamente quest'anno abbiamo deciso di portare tutti i nostri prodotti sia della gamma robotica ma anche della gamma CN di cui Fanuc è leader e soprattutto nel campo della robotica è il leader mondiale per installato. Fanuc quest'anno ha deciso di portare questi prodotti perché vuole ancora una volta sottolineare l'importanza della collaborazione con il mondo delle scuole. È importantissimo in questo momento creare delle figure altamente formate nei campi dell'automazione industriale, robotica, CN. Sono figure che in questo momento le aziende cercano disperatamente e anche Fanuc è scesa in campo attraverso le nostre attrezzature e i nostri prodotti di ha sempre eccellenza nel mercato per poter formare e trasmettere ai ragazzi le competenze essenziali per la formazione scolastica e continua. Proprio per questo Fanuc ha inoltre iniziato un percorso insieme al nostro nuovo partner Sanoma che porterà alla certificazione delle competenze nel campo della robotica sempre attraverso le nostre celle educational. Importantissima questa collaborazione sempre nell'ottica di dare ai ragazzi le competenze subito spendibili nel mercato dell'automazione industriale e rispondere alla sempre più crescente esigenza delle aziende nella ricerca di tecnici altamente formati.